Amici, saluto a tutti. Se c'è una cosa che la vita mi ha imparato è che il ridere è la meglio la carta che ho in mano. Eppure ora vi devo parlare di una cosa seria assai, una cosa dove non c'è niente da ridere, una cosa che fa male il cuore. E mi ricordo a voi, cari amiche donne, la violenza è un mostro che te ne faccio la paura. Lo so, lo sa, non è facile parlare. Ma state messa niente. La violenza non è amore. Chi mette a mano non vuole una femma, non è né un uomo d'amore né un uomo di libertà. E non è niente. E niente può giustificare la violenza. Ma c'è sta un'arma micidiale che questa violenza la può sconfiggere. A voce, a voce vostra. fatela sentire, forte, chiara. Napoli è con voi. Napoli vi può dare una mano. Ma parlate, cercate aiuto, denunciate. La voce vostra è l'arma buona. Alluccate! Io lotto e l'iniziativa promossa dall'assessorata alle pari opportunità del Comune di Napoli è finalizzata la promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Fa sentire la tua voce. Chiama il 1522 o scrivici in chat. Grazie a tutti.